Nella trentaduesima giornata del campionato di Serie D Girone F, il Vasto Girardi batte 3-1 il Nereto e rimane fuori dalla zona play-out, mentre per il Rosso-Blu si avvicina sempre di più l'ora della retrocessione. La formazione di Mister Delgrosso parte con il piede sull'acceleratore ed infatti al settimo i locali sono già avanti. Falsetta riceve un pallone sulla sinistra, si accentra per bene e con il sinistro sperisce la palla in gol per il vantaggio del Nereto. Il Vasto Girardi non sta a guardare e risponde 4 giri di lancette più tardi con Gargiulo, che dalla sinistra si smarca verso il centro, ma il suo destro è troppo centrale per impensierire De Luca. Vasto Girardi che ci riprova anche al sedicesimo, sempre il numero 6 che dalla sinistra accrossa perfettamente per Domizzi, ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Due minuti prima della mezz'ora arriva il pari degli ospiti, guida e aggancia un pallone sulla sinistra, passaggio a rasoterra sul secondo palo, dove Irace deve solo spingere la sfera in porta e 1-1 al comunale di Nereto. Nella ripresa il Nereto esce dalla partita e permette al Vasto Girardi di riprendere sempre più campo. Ospiti che si rendono pericolosi al cinquantesimo, guida si smarca bene, riceve in area di rigore, conclude, ma De Luca gli impedisce la gioia del gol. Nella seguente mischia, Irace riesce a recuperare la sfera e a concludere, ma l'estremo di casa, con un ottimo colpo di Reni, smanaccia in calcio d'angolo. Cinque minuti più tardi, il Vasto Girardi trova il gol dell'1-2 con guida, ma l'assistente del direttore di gara segnala fuori gioco. Vantaggio degli ospiti che arriva al cinquantanovesimo, Irace viene atterrato in area di rigore, Finzi di Foligno assegna il penalty, dal dischetto Varuggeri che con un destro ad incrociare completa la rimonta degli ospiti. 600 secondi più tardi, la squadra di Mister Prosperi trova anche il gol dell'1-3. Sempre una calcio di rigore, Ferrini interviene in maniera irregolare su Irace, il fischietto Umbro indica di nuovo il dischetto, si incarica a guida della battuta, il quale spiazza De Luca e mette fine i giochi. Non succede più nulla al comunale di Nereto, locali che si avviano sempre di più alla retrocessione, mentre il Vasto Girardi rimane a più 1 dalla zona play-out. Succede quello che succede spesso, una squadra che si scioglie, che commette delle ingenuità grosse, che purtroppo non c'è più tempo per recuperare gli errori commessi. Purtroppo questa è una squadra che da tempo offre delle prestazioni, soprattutto nelle prime frazioni della gara, discrete, facendo vedere anche buon calcio, nonostante i nostri dati che abbiamo, le statistiche, però purtroppo non abbiamo la forza per mille motivi. Non è una questione solo di squadra, purtroppo la situazione del Nereto è deficitaria da un po', purtroppo questa è.